Credo che Crocetta abbia rappresentato il peggiore governatore che la Sicilia abbia mai espresso, non lo dice l'onorevole Pogliese di Forza Italia, lo dicono i siciliani durante l'ultimo sondaggio sul gradimento dei governatori. Non abbiamo utilizzato le risorse europee in maniera qualificante, non le abbiamo utilizzate tutte, abbiamo perso un miliardo di Euro attraverso il meccanismo e il disimpegno automatico e credo che questo rappresenti un'altra assoluta anomalia del sistema siciliano. E per controllare la candidatura? Su questo credo che dovrei... No, perché con i loro attirarli per la giacca, non da una parte o dall'altra. Io, ripeto, sono certamente felice, sarei ipocrita se non dicessi questo, che il mio nome venga fatto da altri, certamente non dal sottoscritto, come ipotetico candidato a sindaco di Catania o presidente della regione. Per me è motivo di grande orgoglio, ma sarebbe un'eventuale grande assunzione di responsabilità. Però io credo che su questo tema bisogna innanzitutto superare l'errore madornale che il centrodestra ha commesso nell'ottobre 2012, dividendosi e permettendo la vittoria di Crocetta. Ma credo che quell'esperienza abbia sortito in effetto. L'unità del centrodestra è nei fatti. Ci confronteremo sul programma e poi ritengo fra gennaio e febbraio ci confronteremo anche su chi potrà rappresentare meglio la nostra coalizione, chi potrà svolgere una funzione di sintesi fra le diverse sensibilità, le diverse estrazioni culturali che è giusto che ci siano e che permangono all'interno di una grande coalizione, quale è e quale vuole essere. Grazie.